Ah, ciao a tutti ragazzi, qui è Kailupo, è un mese della webcam per un bacca del cazzo della webcam, appunto. E bentornati con la seconda parte di Minecraft del nostro mondo. In questa parte noi faremo le cose come si deve. Allora, innanzitutto. Crafting table, non fatti due perché sono coglione, vabbè. Fanno più swag, no? Noi graffi in table, cosa ci faremo nei... Oh, che cazzo ci faccio con l'arbocelli? E vabbè, che pavalle. Allora, che cazzo sta succedendo qua? Ah, questo qua, questo lo mettiamo qua. Non so un attimo a pausa, ok ragazzi, si vede la webcam, ti devo fare... Ok, perfetto. Allora, fornace, eh... Non so l'una. Dai, dai. Non vedete, niente, qua il carbone quanto ne abbiamo, mettiamo 8. Carne coce. Oltre devele, non ci facciamo assolutamente nulla. Però, innanzitutto, ci facciamo... Ecco, due di voi sì, e li mettiamo qui. Andate tutti, ah no, questo qua. Questo ci vuole anche se... Non che ci frega. Dobbiamo stare attenti, perché ora... Dobbiamo fare, innanzitutto, le torce. Dobbiamo stare attenti, e quindi questi. Facciamo così guardare. Facciamolo subito il letto, così. Perfetto. Il letto lo mettiamo... Qui? Qui? Oh, non è che qua. Vabbè, fai un culo. Ok, la c'è dentro. Quindi, l'altro lo mettiamo qui. Se volendo potrei fare anche un architettore abbastanza cazzuto. Qua lo lasciamo aperto, non ci frega. Forse meglio chiudere. Vabbè, ora no. Mokka, Mokka, non mi fare incazzare, Mokka. Vai di là. Mokka, non mi fare incazzare. Guardate, di qua non puoi ci, perché è solo un blocco, un scialli. Allora. Non mi ricordo più che devo fare dolce. Sì, va bene, sì. Sì, ci credono che ci importi se lo stiamo messo. Ho voluto il togno, ci versi. Gna 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 gna. Se non si vede all'alettamento qua. Le torce. Allora. Una qua. Una qua. Una qua. Una qua. Una qua. Una qua. E una qua. Oppure gli farà giorno. E dobbiamo farci anche una porta. Muokka. Muokka, io non ti voglio ammazzare. però se tu continui a fare così sarò costretto ad ammazzarti muca scendi muca vai di là devo costruire una zona per la muca non si sente a suo agio ora facciamo una cosa facciamo una porta ora, con sta porta e afficamo, non è vero muca si deve andare a cazzo perchè ora il cane luco che fa una bella cosa l'unico problema è che non ci troviamo il materiale però possiamo sfruttare una cosa, possiamo sfruttare il fatto che se io faccio così e non affondare così forse così, ah ragazzi, scusate di resistenza ma tutto perché sto registrando queste due parti consiglio caputano, ho sbagliato tutto vedo qua questo qua questo qua questo qua questo qua questo qua facendo e così che cazzo faccio? noi abbiamo abbastanza materiale quindi ah no, si è fatto il giorno praticamente, diciamo, si ora faremo attenti veramente un po' per le mie questi cazzo non riusciamo da qua se non sapete che famo? sapete che famo? ci abbiamo un letto? che cazzo? ci abbiamo un letto? sfruttamolo? le fai passà, le fai passà letto, parlo buonanotte, buonanotte, buonanotte buonanotte, buonanotte buonanotte, buonanotte prendi la partita, ma che amai stoppata la partita? mi sono tutti morti ok, allora, così quando moriremo rinasceremo nella vita visto che gli abbi sono una nostra necessità quindi ci sono fin troppi scheletri per i miei posti se ne ho scheletro, scusi però Sì. Vabbè. Sì, vabbè. Mi piace? Riusci di spano l'anno. Ci sto! Ci sto! Ci sto! Ci sto! Oh merda! Ma possiamo morire ora? Invece sì! GG cane! C'è solo tu che sei un coglione così. Sì, veramente. Porca puttana! Che palle! Da tanto con gioco a Minecraft, so, senta pure incuglionito. Quello scheletro di merda! Che schifo, regà. Mi faccio schifo da solo. Sì, sì. Fermo. Scheletro. Oh, scheletro. Ci sta la carne da zucchero. Per manco mi ricordo che cazzo ci faccio con la carne da zucchero. Qualcosa ci fa, ma sto sicuro. Pompiamo qua. No, non è molto. Non è molto. Non è molto. Non è molto. La ricerca di minerà. Ora, ripetiamo sta un po' sciolire del cazzo. Cazzo, lo piano. Mettiamo li vicino sti cazzi. Ci serve tanta linea perché dobbiamo fare 100 delle mucche intanto. Ma se non ci serviamo a un cazzo, voglio fare 100 delle mucche. Vabbè, posso? Posso farmi ricettare le mucche? Grazie, grazie. Non mi ricordo se il fiero attira i maiali o anche le mucche. Cazzo che si vede. Cazzo che si tira pure le mucche. Sì, 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 sì. Così. Una volta che tira anche le mucche è fatta, perché le mucche saranno tutte alla vicina. E tipo fatta. Perfetto. Facciamo così, così. Ho recinto delle mucche incoming. Recinto delle mucche incoming. La tutta fanculo qua. Un cuore, un cuore e un cuore. Perché vado sotto acco ma non c'è senso. Ma qua possiamo tranquillamente mettere il limite. Ecco. Anche perfetto. Sbuffa pure la mucche. Sbuffa pure la mucche. Sbuffa pure la mucche. Eccolo qua. Ecco qua. Toc. Lo spero del più lo sa. Le cose che mi devo usare per fare altre cose. Allora, su signora vocca per me. Secondo, scusi signora vocca vedi, vedi vedi, vedi, vedi signora vedi. Vedi lì dentro. Vedi entri, 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 entri. 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 Eh sì, guarda, guarda te, di anni eh. vuoi entra la, vuoi entra la lì, vieni quella porta, quella porta guarda che culone, entra, abbraccio il culo, qualcunici oh, vuoi entra la, oh, direzione esatta, dritto, dritto no, ma che me sta più là per culo allora, tu ora entri là, porca puttana, capito? entri, ma comunque entra per culo, no, entra, oh, e questo ce l'ho dato e non rompi il cazzo oh, finalmente, il recito per le mucche ragazzi è fatto, prima missione andata ora, pensiamo un attimo, abbiamo pure due ossa, quindi farina d'ossa a gogo e il prossimo obiettivo sarà farsi l'orto, ma tanto, siamo molto scioli perché la cosa ce l'abbiamo qui quindi basta che facciamo tipo una cosa così, no? facciamo l'orto qua lo possiamo fare in mezzo all'acqua, che cazzo c'è tutto ovviamente deve essere coperto con viti faremo due file per ora, no? siamo per ora, ma c'è molto così, ormai molto piccoletto, no? serve la pala, ovviamente 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 serve la pala qua, qua, qua qua non la pala, la zappa, che ho detto ora, visto che ci serve una recensione e la facciamo con gli alberi, perché è molto più facile farla con gli alberi, visto che con, che ne so, quattro stack d'alberi no, quattro stack, perché una stack è so, 64, con quattro alberi, con quattro pezzi di legno ci puoi fare sedici sedici pezzi dell'altro coso quindi, contando che di media ce ne hanno cinque ognuno, in questo c'è una base di popolo di prima o quattro sono un casino degli angli non so, non so facciamo col piccone, e che c'è che noi si arrangiamo, si arrangiamo si arrangiamo, 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 si arrangiamo allora costriremo un piccolo orto per noi e faremo entrare un'altra bocca nel nostro recinto quindi che cosa succede, anzi, anzi tutto voglio prendere anche un'altra ma si sa che qua non mi piace facciamo qui qua abbiamo anche un altro seme, perfetto qui stiamo precisi, precisi, no? Anche cazzo facciamo la cosa precisina qui seme ora, qua tutto qua tutto così, così poi così, così, così perché arriverà fino a gioco mentre non è che non è che palle io sono uno stronzo, però qua qui cazzo, perché lo sa così, così perfect eh, devo correre qua sotto i corsi perfetto così perfetto, così guarda che ho combinato, non stiamo scherzando canelupo architetto guarda guarda che ti sto combinando, ma mai ah canelupo architetto toc, toc, toc perfetto, abbiamo fatto l'ortigello qui sotto non ci può passare nessuno perché ci troviamo la terra ora, io direi pure anche di fare che cazzo ci briga la prima tossa quindi diventiamo i semi che stanno qua la terra non ce l'ho ovviamente più quando serve la terra non ce l'ha mai quindi che come ne fanno così uno e due che ci vuole fare la terra? niente qui ci sono quegli spazi di briga ce li abbiamo, basta solo mettere i versi di terra è più stronzo che li metto uno svolato però versi di terra una bella zappata e due bei semini e le giugno e le sonte lo vedete se con la mucca perfetto, la tiro sapete questo che vuol dire? free mucche il dolore è solo io non ho un'uscita di casa questa cosa non ci avevo pensato quindi facciamo una cosa mmm questa sarà l'uscita di casa sarà un po' scomoda perchè c'è l'acqua però cane da zucchero aggiriamo il territorio se vediamo qualche mucca da solo ci dovrebbe essere qualcosa che ho ancora niente cane da zucchero mia manco mi ricordo che ci siamo qua vabbè se ti aiuta sotto casca tutto manco mi ricordo che cazzo servono per me da zucchero sinceramente poi me lo direte voi sotto nei commenti perchè io sinceramente ti manca non mi ricordo quasi più un cazzo un maiale ma anche signori venghi no ah ma il maiale c'è per la calota la calota non ce l'abbiamo ma è la vaffanculo la rie che serviva non mi ricordo come zombie vediamo sempre d'occhio casa nostra casa nostra cosa di casa nostra i polli cazzo i polli basta il fieno ma che serviva i polli un nuovo vabbè chi mi ricordo che serviva i polli un amico io amico tuo tuo amico mio eh portacci vostro ma quanto mi hanno chiuso loco di polli vi preguo qui vi pregno questo io questo non mi ecco di polli loco di polli ha ammazzato un pollo ahia mortacci tua ne so perso casa questa cosa non è molto bella però abbiamo due uova di pollo ragazzi con queste due uova due uova vediamo se qua ci stanno le mucche credo che ci dovrebbero stare qua le mucche se non ci stanno qua io ho variato con questa esco perché veramente vediamo se ci stanno le mucche le mucche le portiamo a casetta se non ci sono andiamo direttamente a casetta portate le mucche eh no, le mucche come ci sono quindi dovremmo andare a sperare un altro punto della mafia che trova le mucche questo deve fare alcuni ingressi sul tacco lo fa botte lo fa botte spaccava c'è dai dai gli piace percone ci spaccava c'è spaccava c'è mamma mia maria mi affanculo al buscioli del cazzo ovviamente servirà una protezione perché non è che qua questo merccio aperto quindi servirà una protezione e facciamo una cosa del genere guardate 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 ci va benissimo non faccio qualcosa niente qui qui a mucca la sesta fai e pippe ok ragazzi io credo che anche questo che ci faccio con la margherita lo sai che ci faccio tieni ragazzi io spero che anche questo episodio vi sia piaciuto se vi è piaciuto ragazzi vi invito a lasciare un bel like che si va a commentare si va a condividere sempre 100 like ragazzi a un faccio a tutti a che lungo bella grazie